Sì, davanti. Sì, davanti qua, appoggi qui. Davanti, qui davanti. Così appoggiogli. Ecco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo qua in tanti a dare l'ultimo saluto a Lidia. E ognuno lo fa con la sua spiritualità, con la sua esperienza, con il suo modo di concepire la vita. Facciamo tutti un atto di fede. Noi la salutiamo con la croce che abbiamo appena fatto, il quale anche Lidia credeva. La croce è il segno della massima umanità, del modello di umanità. E noi proprio guardando questa umanità, che diciamo, capace di amare così, è solo Dio. Per fede crediamo che è figlio di Dio. E vogliamo benedirla, cioè dire bene. Perché con la croce si può solo benedire. E fare nient'altro. Volevamo iniziare questo rito esprimendo la nostra speranza, o meglio il bisogno di speranza. esprimiamo questa attesa continua che abbiamo dentro di noi, questo anelito, questa sete che sembra insaziabile. E lo facciamo con il Salmo 129. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono. Così avremo il tuo timore. Io spero nel Signore. Spera l'anima mia. Attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle e l'aurora. Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attende il Signore. Perché con il Signore la misericordia è grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Preghiamo. Ti preghiamo umilmente, Signore, Padre Santo, Dio Onipotente ed Eterno, per la nostra sorella Lidia, che hai chiamato a te da questa vita per condurla al luogo di beatitudine, di luce e di pace. Possa attraversare senza timore le porte della morte. Trovi riposo nelle dimore dei beati e nella luce santa che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Per Cristo, nostro Signore. In questi giorni tanti hanno sentito il bisogno di ringraziare, Lidia, di esprimere la sua grandezza, la sua lotta, la sua voglia di libertà, il suo bene. Io non aggiungo altre parole. Leggo una lettura di un profeta che tutti conosciamo, che leggiamo tante volte ai funerali, ma oggi davanti a Lidia esprime tutta la sua verità. Sono parole che Lidia ha capito, ha capito prima di altri. Sono parole che tutti potrebbero capire o dovrebbero capire se unissero testa e cuore, perché solo la testa fa vedere tutto e l'opposto di tutto. Si può anche negare la realtà. Il profeta Isaia guarda i suoi fratelli uscire da Babilonia dopo la schiavitù e li vede camminare in processione verso Gerusalemme e dice, guardandoli, ho avuto una visione, visione e un'intuizione, qualcosa che tutti possono capire, che tutti hanno la possibilità di capire. E dice, ho visto tutti i popoli andare su un alto monte e tutti banchettavano. Non c'era dolore, non c'era lacrima, c'erano cibi succulenti, c'era la comunione. Ecco, lei ha capito queste cose. Chi supera pregiudizi culturali, ideologici, condizionamenti, non può non capire che siamo tutti uguali. Abbiamo tutti le stesse speranze, le stesse inelite, le stesse paure, le stesse angosce, dei stessi desideri. Non c'è religione, non c'è lingua, non c'è colore della pelle che ci distingua. Tutti anneliamo la stessa cosa, alla comunione. Per questo, come dice il discorso della montagna, beati gli affamati di giustizia. Chi vede questo non può che lottare, come ha fatto lei. E già lottare è già una forma di sazietà. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivante. Egli straperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignomia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno ecco il nostro Dio in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. Ecco, dicevo non dico parole. Di nuovo si può dire soltanto l'esperienza personale che io non ho. Io l'ho conosciuta tramite Don Rauzi che mi parlava tante volte quando ero in vita perché lo frequentavo ma non ho un'esperienza personale. Leggo alcuni pensieri che ha scritto la nipote Marta Brisca che mi ha spedito che mi sembra riassumano bene la vita di Lidia. Le parole sono un dono e non vanno sprecate. Le parole vanno invece pensate capite usate amate liberate. Ha dedicato la sua vita al pensiero di parole da capire amandole per poterle usare nel loro senso più alto a vantaggio di tutti affinché le persone potessero prendere coscienza della propria libertà. Questa vita è stata un dono per tutti. siamo stati tutti molto amati attraverso le sue parole senza differenze e nel rispetto incondizionato delle nostre diversità. Il senso profondo di questa vita è la libertà che ha voluto a fianco ogni giorno per 96 anni per poterla condividere con l'umanità affinché la parola libertà fosse pensata capita amata vissuta e diventasse patrimonio di tutti soprattutto di chi di chi pensa di non poterla fare propria e di chi pensa di non essere chiamato in causa. Grazie Marta. Un ultimo pensiero o Baldo Bacchiega ma pregato di dirlo che non può essere presente. Cara Lidia grazie alla tua instancabile determinazione in difesa della democrazia e dei diritti umani dei quali oggi ricorre la scrittura della Decreazione dei diritti dell'uomo esprimo a te la mia massima gratitudine e la mia preghiera buddista. Un consigliere di Don Bosco Ubaldo Bacchiega Ascoltaci Signore Perché il Signore libri il mondo dagli orrori delle guerre dalla pandemia dalla violenza preghiamo Per questa sorella Lidia che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna perché l'accolga nella comunione dei Santi preghiamo Per i nostri fratelli che sono nel dolore perché siano aiutati dalla presenza dalla solidarietà dall'amicizia di molti preghiamo Ascoltaci Signore O Dio Padre di tutti coloro che vivono e muoiono ascolta la nostra preghiera accogli questa sorella nel tuo regno di gloria trovi in te riposo e pace a noi dona conforto e aiuto perché sappiamo riprendere il nostro cammino con maggior realismo e con maggior umanità perché è di questo che abbiamo bisogno per Cristo nostro Signore vogliamo ora dare l'ultimo saluto a Lidia dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera rivolgiamoli l'ultimo saluto il nostro addio anche sevelato di tristezza è confortato dalla speranza dove infatti crediamo e lo crediamo perché ci fidiamo di te non perché sappiamo potremo godere della presenza e dell'amicizia nell'eterna casa del Padre venite santi di Dio accorrete angeli del Signore e presentatela al trono dell'Altissimo ti accoglie a Cristo che ti ha chiamato gli angeli ti conducano con Abramo in Paradiso accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo l'eterno riposo dona al Signore splenda lei la luce perpetua riposi in pace Amen e ora insieme lo facciamo con una preghiera che tutti conosciamo o comunque in silenzio vogliamo salutarla dicendo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male su Lidia e su noi scenda la benedizione di Dio Onipotente il Padre il Figlio e lo Spirito Santo Amen allora io vorrei che per nuove generazioni questo fosse un giorno di festa per le nuove generazioni che raccolgano i suoi testimoni che riassumo in quattro parole non violenza pensiero libero grazie sarò brevissima anch'io volevo solo portare l'ultimo saluto a Lidia Menapace da parte della giunta comunale del sindaco della presidente del consiglio che è qui presente del consiglio comunale tutti con gli amici e le amiche ci stringiamo oggi in questo doloroso momento Lidia Menapace ha dato tantissimo alla nostra città una donna giusta straordinaria che ha dato un contributo per la pace per la giustizia per i diritti umani questo sicuramente sarà un impegno della città ricordarla portare avanti la memoria delle sue opere delle sue battaglie sapeva dialogare ci mancherà la sua vivacità la sua voglia di parlare con i giovani proprio ai giovani si rivolgeva spesso e poi il suo impegno per le donne per portare avanti un ruolo sempre più importante della donna nella società per tutto questo raccoglieremo il suo testimone e porteremo avanti le sue idee i suoi valori grazie Lidia Menapace lo ha detto tante volte andando nelle scuole rispondendo a tante interviste chiamatemi ex ex politica ex parlamentare ex insegnante ma non chiamatemi ex partigiana perché sono partigiana per sempre e questo suo essere partigiana non era una specie di monumento rivolto al passato era vita vissuta era vita vissuta quotidiana in cui con curiosità cercava di trovare la strada tutte le volte di far vivere quegli ideali a cui aveva dedicato quella resistenza che lei rivendicava non armata ma era orgogliosissima di dire che si era congedata come armata fosse stato determinante e insieme a storiche come Anna Bravo e altre ha riscritto anche una pagina importante dimostrando come senza le donne senza il ruolo delle donne quella resistenza non ci sarebbe stata come non ci sarebbero stati fondamentali di civiltà ecco sì diritti civili diritti sociali eguaglianza il movimento delle donne ma Lidia Menapace ha incarnato nella sua vita l'istituzione e per questo nel salutarla tutti molto addolorati noi pensiamo che la cosa migliore sia pensare al bene conquistato tutta la sua vita quel bene adesso marcia su tutte le nostre gambe partigiani per sempre lei lo è stata noi lo dobbiamo essere grazie un bravissimo saluto anche del partito in cui Lidia ha militato fino alla fine in cui ha creduto il suo essere partigiana si è trasformato in una militanza ostinata progressiva e ferma sempre fino alla fine insieme a tutte le parole che ho sentito oggi nei giorni passati voglio ricordare anche che Lidia non era soltanto una persona è una persona a cui piaceva anche ridere e scherzare di lei voglio ricordare di come ripetutamente abbia ricordato a sua volta tutti noi la sua voglia di percorrere quella che lei chiamava la via alcolica al socialismo più volte in più occasioni ce l'ha ricordato io me la ricordo ancora così sorridente felice e partecipe assieme a tutti i compagni e le compagne in ogni occasione sempre un saluto a tutte e a tutti come piaceva a Lidia di Lidia è stato detto e ricordato molto del suo vissuto io le sono stato vicino come amico in questi ultimi tempi fino agli ultimi ricoveri all'ospedale si era formato un legame di profonda amicizia fino agli ultimi giorni di vita il mio ricordo per Lidia inizia da una frase significativa ed è incomiabile scritta sull'ultimo libro che fare punto presentato in occasione del suo novantaseiesimo compleanno bisogna avere consapevolezza altrimenti ci si lascia vivere non si vive vivere significa prendere coscienza e si tratta di un lungo percorso di maturazione il mio ricordo di Lidia parte proprio da questo scritto credo che in queste parole ci sia tutta la sua grandezza ed onestà intellettuale Lidia era solita dire restiamo umani e lo diceva con forza pensando a questa società ormai disgregata piena di diseguagliate ricordo delle sue frasi celebri che la rendevano unica inconfondibile nella sua personalità io non faccio battaglie ma lotte so sono stata ex prof ex tante altre cose ma non ex partigiana perché essere partigiani e partigiani è una scelta di vita ci hai lasciato e mi hai lasciato un grande patrimonio continuerò in questo percorso che ti era tanto caro ciao mi mancherai Pierpaolo una piccola comunicazione attivando con la giunta per far piantare un albero sulla collina dei giusti così denominata che si trova al firmian intitolato a Lidia Menapace Lidia si trova insieme ad altri personaggi che hanno fatto la storia di questa terra si scusa per non essere presente oggi causa impegni di giunta grazie stiamo salutando una persona che è stata una gigante per più generazioni che ha sostenuto battaglie che ha sostenuto ideali che ha testimoniato ed è stata protagonista delle più importanti svolte della società italiana quasi per un secolo le svolte che hanno dato a questa società diritti e consapevolezza però una testimonianza che io voglio fare è quella delle sue capacità di insegnare la sua docenza la docenza verso una umanità diversa da questo punto di vista se si può riprendere l'immagine della sentinella è stata la sentinella di una di un mondo che in cui abbiamo vissuto Lidia è stata capace di insegnare come si dovesse essere resistenti e resistenza voleva dire essere all'opposizione voleva dire avere una capacità critica sempre in ogni momento voleva dire avere anche una capacità di dialogo e questo diante io l'ho avuta al liceo ho avuto un insegnante di italiano all'ultima classe di liceo devo dire che le sue capacità di illustrare come i raggi di luce nella divina comedia fossero un elemento in cui lo spirito riusciva a diventare è qualche cosa che io non posso dimenticare la comunità che la ricorda e la capire quanto sia importante avere capacità di ripetere il senso della sua vita grazie 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 a tutti. Una cerimonia come ha voluto Lidia, la sua famiglia, ma penso che a Lidia, come ha fatto piacere l'altro giorno in piazza Adriano, faccia piacere concludere con la canzone della Resistenza che cantava spesso volentieri con noi, come è stato già ricordato, magari bevendosi anche un buon bicchiere. In questo momento sta sicuramente brindando la nostra salute e io penso che concludere in questo modo le farebbe piacere. Grazie. 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 Grazie.